Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione nella quale parleremo della civiltà etrusca. La civiltà etrusca compare intorno all'VIII secolo a.C. nelle regioni centrali dell'Italia. Di fatto non si conoscono gli origini di questa civiltà. Molti studiosi ritengono infatti che gli etruschi siano originari della penisola e che la loro civiltà si è risultato di una fusione tra popolazioni villanoviane che abbiamo già visto nella video lezione precedente e i popoli provenienti dal vicino oriente. Dunque non si conoscono le origini e per questo tale popolo risulta essere anche piuttosto affascinante. Gli etruschi occupano la zona corrispondente alle attuali Toscana, Isola d'Elba e parte settentrionale del Lazio come possiamo notare da questa cartina. Questa popolazione non dà vita a uno stato unitario, dunque non abbiamo un unico stato etrusco. Abbiamo quelle che potremmo chiamare delle polis, cioè delle città pienamente autonome. In alcune occasioni le città etrusche si uniscono in confederazioni militari come la Dodecapoli per esempio che racchiude queste città in elenco. Sono delle alleanze militari, come abbiamo detto, che però non portano le singole città a rinunciare alla loro autonomia e alla loro indipendenza. Diciamo che le Dodecapoli somigliano un po' alle anfizionie o alle leghe greche. Come sono organizzate da un punto di vista politico le città etrusche? Le città etrusche sono guidate da un sovrano chiamato Lucumone che governa con l'aiuto di un consiglio di aristocratici. In questa immagine potete trovare un ritratto di Porsenna, uno dei più importanti e famosi lucumoni della civiltà etrusca che si trovò a fronteggiare per l'appunto Roma e il suo crescente dominio all'interno della penisola. Viene poi il popolo, composto prevalentemente da contadini e commercianti e infine il ceto servile, costituito da schiavi e contadini semi liberi. La società etrusca è nota per il diverso ruolo riconosciuto alla donna, che gode di una certa parità rispetto all'uomo, dunque una novità rispetto ai contesti antichi che abbiamo potuto notare. Poteva infatti partecipare a banchetti e spettacoli, possedeva beni e aveva addirittura accesso all'istruzione. Quindi abbiamo una posizione sociale della donna che sebbene non sia diversa da un punto di vista politico alle altre civiltà, era leggermente diversa rispetto a quella che abbiamo notato nelle società precedenti che abbiamo analizzato. Di fatto la donna non partecipa alla politica, però fondamentalmente ha una condizione sociale leggermente migliore, soprattutto ciò vale per le donne appartenenti a famiglie più ricche. Una condizione, dicevo, migliore rispetto a quelle, alle donne delle altre polis o delle altre civiltà. Intorno al VII secolo a.C. i domini etruschi si estendono fino alla Campania, quindi da questa zona, questa zona che trovate qui in arancione, si estendono verso sud fino ad arrivare a contatto con i greci, con i quali appunto inizieranno i contrasti legati al predominio dei traffici commerciali. Nel V secolo a.C. la civiltà etrusca si avvia al declino molto lentamente a causa dell'avanzata dei celti a nord e delle colonie greche a sud, oltre che per l'inesorabile avanzare della nascente potenza romana, con cui, ovviamente, Roma la trovate qui, con cui appunto gli etruschi ingaggeranno diverse guerre. Vediamo da cos'è caratterizzata l'economia etrusca. L'economia etrusca era caratterizzata dalla lavorazione dei metalli, in particolare piombo, ferro e stagno. Vedete qui, per esempio, anche l'oro sicuramente era un metallo sapientemente lavorato dagli etruschi. Il commercio di manufatti, che si estende per tutto il Mediterraneo e il vicino Oriente. Gli etruschi stabiliscono, infatti, una vera e propria tala socrazia, c'è un dominio vero e proprio sui mari, in particolar modo sul mar Tirreno, ma in generale su tutto il Mediterraneo, anche per quanto riguarda la pirateria. Assaltano le navi mercantili che passano per il Mediterraneo e si impossessano dei ricchi bottini e dei prigionieri, che poi rivendono al mercato degli schiavi. Gli etruschi utilizzano anche la loro sapiente arte della navigazione per riuscire a imporsi, anche da un punto di vista commerciale, non a caso entreranno in conflitto, come abbiamo visto con i greci. E infine l'agricoltura, che diventa una base economica piuttosto importante grazie alle innovative opere di bonifica e calamizzazione. Gli etruschi, oltre ad essere abili navigatori e commercianti, sono anche eccellenti costruttori e architetti. Infatti edificheranno alte mura e strade lastricate, opere fognari e acquedotti. Organizzano le loro città in modo ordinato e preciso, secondo l'ordinamento del Cardo e del Decumano. Sono le due strade che tagliano perpendicolarmente la città. Con l'invenzione dell'acqua avvolta, che trovate qui, possono costruire edifici più alti e complessi rispetto a quelli che possiamo trovare in altri centri dello stesso periodo. E inoltre le loro conoscenze architettoniche furono preziosi per la civiltà romana, che serve sfruttarle e migliorarle nel corso del tempo. Quindi abbiamo un vero e proprio utilizzo da parte dei romani delle conoscenze etrusche. La conquista sarà piuttosto fruttuosa in questo senso. Qui trovate, per esempio, un'opera artistica, un sarcofago degli sposi, risalente alla fine del VI secolo a.C., rinvenuto a Cerveteri. In particolar modo, questo sarcofago lascia intendere come il rapporto tra uomo e donna, in generale la condizione della donna, sia una condizione non negativa. La religione etrusca è politeista ed è molto influenzata da quella greca. In questo caso abbiamo proprio una testimonianza di quanto i contatti tra popoli determini una contaminazione, anche da un punto di vista religioso. Entrambe le religioni, quella etrusca e quella greca, hanno infatti una forte valenza sociale e pubblica, perché si crede che ogni aspetto della vita umana sia regolato dalla volontà degli dei. Grande importanza avevano gli aruspici, ovvero i sacerdoti. Erano in grado di interpretare la volontà divina mediante l'osservazione del volo degli uccelli, dei fenomeni celesti o delle viscere degli animali. Qui abbiamo, per esempio, il fegato di Piacenza, che è un modello in bronzo del fegato di una pecora. Siamo tra il secondo e il primo secolo a.C., però è esemplificativo del lavoro che veniva fatto e dell'osservazione che veniva fatta sul fegato di un animale, in questo caso di una pecora. Nel periodo del declino, quindi nel periodo in cui i etruschi si avviano a perdere i loro territori e quindi a non poter più portare avanti la loro cultura e la loro civiltà, la religione, inizialmente legata a quella greca, si popola di figure mostruose e demoniache. Qui avete, per esempio, delle rappresentazioni di tale mostruosità. In quest'ultima slide notiamo le decorazioni e le costruzioni delle necropoli etrusche. Difatti, molte informazioni che noi abbiamo della popolazione etrusca ci vengono proprio dalle necropoli, perché qui nella tomba dei leopardi, chiamata così, perché sono raffigurati qui nella parte superiore, notate, dei leopardi, notiamo una scena conviviale, una scena che rappresenta quanto comunque anche all'interno delle tombe fossero rappresentate scene di vita quotidiana, scene anche di festa, come in questo caso. Mentre invece qui abbiamo la costruzione esterna, abbiamo la necropoli di Cerveteri, una necropoli etrusca, e abbiamo qui delle tombe a tumulo, cioè delle tombe costruite come delle vere e proprie case all'interno delle quali troviamo appunto i resti. Bene, la video-lezione è conclusa. Alla prossima!